Stamani mattina ho iniziato un nuovo libro, una nuova lettura che gira tutto intorno a quattro concetti fondamentali che sono sogna, credi, osa e agisci. E sono dei concetti in cui mi sono rivisto tantissimo, perché mi è tornato in mente quando 16 anni fa mi affacciai per la prima volta al mondo della palestra da ragazzo timido e grassottello e la passione per quel mondo iniziò a portarmi a sognare un fisico diverso. All'epoca presi di riferimento Sversenegger e questo sogno piano piano si stava, tra virgolette, concretizzando perché più mi allenavo e più vedevo che era possibile trasformare il mio fisico. E allora iniziai a poterci credere davvero, credere di arrivare a una trasformazione fisica, estetica e psichica. E tramite quella credenza forte iniziai a voler capire quali erano i migliori programmi per me da un punto di vista dell'allenamento, i migliori programmi alimentari, cosa dovevo fare, chi dovevo sentire, come dovevo agire. Iniziai a studiare, iniziai ad affidarmi a persone competenti, che in realtà alcuni anche non tanto perché mi hanno fatto fare errori che ad oggi li reputo esperienza ma all'epoca non tanto. Ad ogni modo iniziai, dicevo, a credere e a osare di fare anche dei passi andando contro magari diciamo il contesto familiare all'epoca che vedeva la palestra solo come uno strumento di perditempo, andare contro diciamo determinati preconcetti usando magari degli integratori che all'epoca erano visti, un po' anche oggi, come bombe, doping e quant'altro. Ad ogni modo io osai a fare i passi che erano necessari da fare perché avevo un sogno e una visione da raggiungere. E tutto ciò si è trasformato in azione perché se non avessi avuto il coraggio di sognare, credere e osare di fare quelle cose non sarei mai riuscito a compiere le azioni che poi mi hanno portato ad oggi ad avere il fisico e il successo che ho ottenuto. E questo è fondamentale, ti consiglio di seguire veramente queste parole in maniera forte se vuoi raggiungere anche tu una trasformazione fisica, estetica, psichica importante perché devi avere dentro di te il coraggio e la credenza che tutto sia possibile ma non perdere ovviamente tempo dietro a strategie che non funzionano affidati a delle persone, dei programmi che possono essere veramente studiati sulla tua fisicità, sul tuo stile di vita, sul tuo modo di essere, sui tuoi obiettivi e che non ti facciano perdere né tempo né soldi né ovviamente portarti in cazzature varie. Se hai bisogno di una mano io sono qua disposto a darti tutto il supporto possibile, ci sono passate due mie idee, so cosa significa per cui basta che tu mi contatti senza problemi facciamoci una chiacchierata, non c'è nessun impegno.